Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, ricordiamo che è chiuso per lavori il tratto compreso tra Aglio e Roncobilaccio in direzione nord, il provvedimento è in vigore fino al 28 febbraio. Tra mobilità il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana, possibili disagi nel nodo fiorentino della A1 e della A11 e in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Un sguardo al traffico urbano di Firenze tra i lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli di asfaltatura in via Senese e gli interventi sull'Astrico in Borgo Pinti e via di Camaldoli, tutti i dettagli sui nostri canali social. Relativamente al trasporto pubblico locale, Autolinea Toscana informa che quest'oggi per cause direttamente o indirettamente legate al Covid mancheranno 402 conducenti, sono previste riduzioni al servizio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.